Ciao a tutti ragazzi, siamo in questo nuovo video dei balli di Forza Non lo so fare, un pirouette Soltanino Quello della Sino 3 Ah, i finiti dub Dub basso mi sembra, è questa Ah, zombificato E' un'altra parola Ok, per questo video possiamo punire rag Mettete like e iscrivetevi al canale Ciao 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 Ciao